Solo una domanda, sei felice? Molto, molto felice, è così che sono ora. È stata una settimana molto emocionante, è stata la mia prima volta in Torino e ho davvero piaciuto, le persone hanno fatto molto speciali e è stato anche speciali perché mia moglie era qui con me per la prima volta quando vengo a vincere un torneo, quindi questo mi fa molto speciale. Ci ha telefonato Antonella Canonica e ha detto complimenti. Antonella, grazie mille. La famiglia Canonica sono molto buoni amici, come sono i Molinari e la verità è che la relazione spagnola e italiana nel tour è forte e da gusto avere amici come i Canonica. Complimenti. Grazie mille. Anto, te echo molto di meno oggi e mi fa molta pena che non stuvi con me, già ti l'ho ho detto per telefono in un messaggio, però così abbiamo una scusa per venire il anno che viene e che gane ancora una volta. Un beso molto forte.